Merceto è un paese turistico che piace, se siamo aiutati dalla stagione che è bel tempo vengono tantissime persone e il complimento più bello che ricevo come sindaco di questo paese e che distribuisco a tutti i miei concittadini è che è un paese ordinato, pulito e fa molto effetto, piacciono molto i vasi di gerani, i fiori e gli ingressi del paese. Questo della salita Pietro Silva è l'ultimo ingresso del paese sistemato con una aiuola, con delle rose, sono tutte cose molto difficili perché poi vanno mantenute, vanno tenute in ordine, quindi chiediamo sempre l'aiuto dei cittadini. Però entrare in paese sia dal raccordo dell'autostrada dove il precedente sindaco ha fatto un viale molto bello, tutto fiorito, sia l'ingresso da Rocca Prebalza e da Ghiare e adesso anche l'ingresso dalla statale della Cisa dimostra che è un paese che merita la sua fama di paese turistico.